e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a vedere le stelle si ho sempre la felpa Octopus perchè è pre-registrato da quello di prima di prima quindi oggi andiamo a vedere le stelle sono appena passato da vedere Pirlo, allenatore secondo, andatevi a vedere il video se non l'avete visto perchè è impressionante quindi io direi di iniziare subito premessa non vi saluto perchè è pre-registrato quindi iniziamo dal del primo che è Quagliarella della Sampdoria con 254 di totale poi abbiamo Schanaloglu Plus con 256 di totale del Milan, poi abbiamo Correa della Lazio con 258 Zeko con 259 di totale della Roma Bonaventura Bonaventura 250 di totale della Fiorentina Rebic Stella del Milan con 259 poi abbiamo Barella Stella Plus dell'Inter con 260 Belotti 261 del Napoli poi abbiamo Bentancur Stella della Juventus con 261 di totale Miquet Terrian della Roma con 262 di totale Ericsson con 264 di totale qua poi sono tutti uguali Morata con 264 di totale Lautaro Martinez dell'Inter con 264 di totale Cullipoli difensore del Napoli fortissimo con 98 di difesa 264 di totale poi abbiamo Lorenzo Insigne del Napoli con 225 di totale ok raga quindi Insigne era il quarto quindi adesso andiamo a vedere la top 3 quindi terza posizione se la giudica De Vrij dell'Inter con 98 di difesa come Cullipoli 85 di controllo del gioco 83 di attacco e 266 di totale quindi lui alla terza posizione poi abbiamo Leonardo Bonucci della Juventus con 97 di difesa 88 di controllo del gioco 82 di attacco e 267 di totale poi altro secondo abbiamo Milinkovic sempre con 267 di totale 82 di difesa 97 di controllo del gioco e 88 di attacco e infine top 1 il gioco la stella più forte di questa collezione è proprio Paolo di Bala stella che nelle plus ce l'andiamo a trovare top player si ce l'ho ce l'ho mi manca solo Vidal abbiamo Paolo di Bala eccolo qui guardatelo qua 78 di difesa 99 di controllo del gioco 95 di attacco e 272 di totale cioè proprio li va a schiacciare di un bel po' Milinkovic 267 lui 272 ma è devastante ok ragazzi quindi questo qui era vabbè adesso qui vedete la top 3 della categoria stelle della collezione Adrenalin XL 2020-2021 quindi il top è di Bala e qui ragazzi se ti è piaciuto iscrivetevi al canale e ci trovate come vedete noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao